Che mi attravi me travolta del cielo alla luna Sognare si può, buongiorno, un saluto a tutti quanti Facciamo il punto con il nostro ragionier Giuseppe Imperato Consulente piccole e medie imprese Buongiorno a tutti Dopo l'appuntamento della scorsa puntata con il consulente e l'avvocato quest'oggi il nostro ragioniere torna da solo in attesa di un prossimo argomento da affrontare eventualmente insieme da poter condividere Come andiamo ragioniere? Qualche buona notizia? Io bene, ma la buona notizia potrebbe essere che forse c'è qualcosa in vista per quanto riguarda non parliamo di grosse cifre per quanto riguarda un po' la defiscalizzazione delle buste La defiscalizzazione delle buste Quindi praticamente un po' meno Allora, di sicuro il nuovo decreto che non so se è uscito se è stato pubblicato, non l'ho seguito onestamente ma forse se non è pubblicato è in corso di pubblicazione perché le linee programmatiche sono state date il primo maggio dell'incontro con le parti sociali, il governo e le parti dei datori di lavoro Di sicuro si privilegierà il rapporto anche ai fini contributivi e della liquida applicata si privilegierà il rapporto a tempo indeterminato Quindi parliamo di lavoratori dipendenti Sì, soprattutto se consideriamo che già nella finanziaria c'era un'agevolazione di 6.000 euro per coloro che erano o venivano dalle liste di disoccupazione oppure non avevano un decaduto al reddito di cittadinanza quindi si trovavano già in una situazione precaria e quindi c'era questa agevolazione di 6.000 euro per le imprese Quindi come sconto sui contributi che dovevano assumere chiaramente privilegiando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato Dall'altra parte si fa accenno anche sempre lo stesso decreto al discorso del reddito di cittadinanza che poi sarà chiamato reddito di inclusione Bisogna vedere se poi perché effettivamente allora il reddito di cittadinanza o comunque l'assegno sociale di sostegno alle categorie diciamo che loro a Barclado si trovano ad essere disoccupati o diciamo ad essere in condizioni precarie di vita e quindi di attività è un istituto previsto un po' in tutti i paesi però si sa come è finito un po' in Italia che si è stravolto ma d'altra parte non c'è stato da parte sia dell'Inps ma da parte dello Stato soprattutto da parte dello Stato un incentivo a far sì che coloro che avessero il reddito di cittadinanza potessero accedere a diciamo a forme anche un po' agevolate di lavoro dipendente a determinate condizioni si capisce l'ideale è quello di dando questo sussidio di far sì che soprattutto i giovani quindi agevolare le aziende che vogliono assumere i giovani dal punto di vista contributivo per cui si è più diciamo l'azienda stessa è più invogliata è più diciamo motivata ad assumere dati gli oneri abbastanza diciamo rilevanti che oggi gravano sulla busta considerate che sulla busta oggi grava un contributo del 9,19% a carico del lavoratore e un contributo a carico dell'azienda che varie tra il 29 e il 38 a secondo le attività quindi capisci bene che è una contribuzione abbastanza onerosa quello che dovrebbe fare reddito di inclusione come lo vogliono chiamare o aiuto o reddito di cittadinanza sarebbe deve essere quello di incentivare l'occupazione quindi dando anche la possibilità di formare al lavoro formare al lavoro i titolari soprattutto i giovani di questo assegno di questo appannaggio di modo che loro possano si capisce arrivare già non dico formati completamente ma comunque già avere perché si sa che quando escono dalla scuola non hanno un superiore o che si manca dall'università non hanno alcuna pratica di attività lavorativa di conoscenze lavorative del mondo del lavoro anche un pochino di esperienza pratica presso le aziende presso le qualsiasi attività quindi questo potrebbe dall'altro là quindi sarà limitato allora intanto per quest'anno mi pare che arrivasse solo per otto mesi quindi fosse concesso solo per otto mesi però la misura dovrebbe rimanere forse a condizioni più basse chiamandolo con assegno di inclusione o comunque con un assegno che dovrebbe agevolare voglio dire l'avvio al lavoro soprattutto dei giovani perché poi il reddito di cittadinanza oggi è percepito anche dalle persone non giovani purché l'indicatore ISEE non sia superiore a 9.360 euro quindi un po' tutti questo ovviamente un po' tutti no perché è un ISEE di 9.300 euro beh ci sono parecchi sono tanti però ecco magari non proprio no diciamo non dico che è una grossa la spesa anno siamo intorno ai 10 miliardi più o meno quindi considera che la media dell'assegno è dai 650 ai 700 euro questa è la media in media perché poi ci sono anche se uno non so è disoccupato ha qualche figlio a carico eccetera arriva anche a 850 900 euro l'assegno ho capito questa è la forbice però l'assegno minimo partiamo dai 600 650 euro 700 anche quindi la media siamo sui 650 700 euro diciamo a cranio certo quindi queste potrebbero essere delle novità un po' diciamo che fanno ben sperare anche se la misura ritengo non ho ancora approfondito la questione ma la misura della diciamo dello sconto contributivo non so di qualche forse di qualche punto 2-3 punti non penso che sia noi che parliamo di grossi di grandi cifre ma dal tuo punto di vista questo tipo di di sgravio no realmente potrebbe quello per la differenza qualcosina in più sulla busta perché parliamo comunque in busta di piccole cifre soprattutto certo sulla busta della piccola cifra che ne so avrai proporzione si capisce tutto proporzione perché considera che i contributi vengono calcolati sull'ordo della busta infatti e quindi se io una busta di 2.000 euro il 9% fa 180 euro metti che lo calino un paio di punti anziché 180 farà 140 cioè a seconda del voglio dire questo è il no evidente però io ti porto un po' il malcontento di quello che ho sentito in giro perché giustamente il discorso è che il potere d'acquisto dello stipendio è assolutamente voglio dire limitato tra l'altro ci sono stati aumenti lo sappiamo tutti ce li hai spiegati nelle varie altre puntate soprattutto dal punto di vista del discorso energetico che poi appioggia ha in qualche modo coinvolto tutto dai carburanti dall'energetico dall'hanno coinvolto tutti esatto hanno coinvolto tutti per carità quindi il potere d'acquisto degli stipendi fermo da diversi anni gli imprenditori anche con i loro problemi a far fronte a un sistema contributivo così pesante i problemi restano perché diciamo dal punto di vista proprio quello che hai citato cioè dal punto di vista il potere d'acquisto ma il potere di acquisto si era già ridotto con l'introduzione dell'euro quindi avrebbe partito molto lontano sì questo sicuramente sì però c'è da dire che negli ultimi anni negli ultimi anni poi non ne parliamo poi i vari eventi hanno contribuito e l'hanno e l'hanno aggravato sappiamo e lo sappiamo tutti che dal 2002 quando è entrato l'euro praticamente non c'è stato un controllo cioè effettivo di quello che era il cambio dei prezzi al consumo rispetto alla nuova valuta perché dove erano mille euro sono passati a un euro quindi è raddoppiato il costo le mille lire sono passati a un euro quindi raddoppiando di fatto mentre lo stipendio di mille euro è rimasto 516 euro di un milione è rimasto 516 euro esatto virgola 60 quindi capisci che il male viene da lontano chiaramente tutto ciò che poi si è succeduto ha fatto sì che si fosse sempre più aggravata la situazione soprattutto per i cedi medio-bassi o comunque ma comunque per la generalità dei cittadini non ne parliamo poi degli ultimi anni tra tra covid guerra aumento delle materie prime aumento energetico vari e vari disguidi eccetera siamo arrivati al culmine ecco voglio dire no infatti non riusciamo non si riesce più a star dietro esatto l'idea era quella di vedere magari un qualche sollievo sarebbe 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 invece così non è purtroppo cioè questo si può parzialmente si può far fronte a questo inconveniente solo con una riduzione vabbè della liquide contributive ma anche soprattutto con una riduzione della liquide fiscali certo e allora portando la tassazione a livelli molto più bassi di quello perché considera che la retribuzione del del lavoratore dipendente è assoggettata pur con le varie detrazioni d'imposta secondo la la quantità di reddito percepita in un anno è assoggettata la tabella ufficiale delle aliquote IRPEF che vanno dal 23 al 43% certo quindi si parte da una base d'imposta già abbastanza sostenuta che è più allora considera che a livello fiscale e questo è una costituzione che ho sempre fatto come al solito chi perché mentre tanti anni fa ripeto torno a ripetere per chi forse mi ero ripetuto io lavoro da 45 anni quando io ho iniziato a lavorare la tabella delle aliquote IRPEF c'erano perlomeno una dozzina di aliquote quindi si partiva dal 10 si arrivava fino forse al 60% per i redditi quindi c'era effettivamente uno scaglionamento lo scaglionamento e la proporzionalità e gravosità dell'imposto sui redditi più alti oggi invece è il contrario perché chi guadagna 2-300 mila euro da 75 all'infinito paga il 43% allora il 43% facciamo che uno abbia un reddito potrebbero essere di un milione di euro all'anno il 43% che è la differenza su 925 mila euro che sarebbero 360 370 mila euro ma te ne restano sempre 6-700 a bordo e altro è meno pesante di chi invece a 20-30 mila euro 40 mila euro possa subire una tassazione sui 6-7-8 mila euro e certo proporzionalmente è ovvio che pesa di più quindi è sempre più gravoso l'onore fiscale oggi è sempre più gravoso sui ceti meno abbienti anziché essere il contrario quindi esattamente l'opposto di quello che dice non della capacità contributiva quindi esattamente un po' l'opposto di quello che dice la Costituzione perché è più gravoso ripeto il reddito cioè l'imposizione sul reddito a meno che uno non abbia tre figli due figli moglie a carica eccetera però non tutti ecco il single facciamo l'ipotesi del single è diciamo così diciamo così meno avvantaggiato rispetto a chi è single che abbia un reddito molto più alto quindi questa è già una situazione un po' abnorme Francesco Murlo che sta andando alla sua esposizione e naturalmente tutti i nostri ascoltatori di Sognare si può e di nell'angolo del confronto e di tutte diciamo le altre situazioni altri gruppi che ci ascoltano e che ci ascolteranno grazie un saluto a tutti quanti prego dicevamo appunto cioè questa è la situazione noi partiamo già da questo ovviamente questo è da decenni non è una cosa di adesso e questo è già un grosso gap per i redditi medio-bassi quindi l'unica cosa che potrebbe mitigare un po' questa situazione è l'abbassamento delle aliquote che dovrebbero effettivamente essere molto più basse sui redditi medio-bassi bassi medio-bassi da lavoro dipendente considerando che il lavoratore dipendente ha solo quel cespite lì non è che può fruire lavorando lavoro otto ore al giorno non è che può essere mandraga che nel lavoro a 12-15 fa il doppio lavoro ma non tutto poi ci può essere qualche caso e quindi quella è l'entrata con quella purtroppo si deve sobbarcare parliamo di una famiglia medio anche di un single medio con si deve sobbarcare l'affitto piuttosto che il mutuo che siamo sempre lì i costi energetici le spese diciamo così dell'abitazione più le spese del vivere quotidiano e quello con una tassazione diciamo ancora abbastanza onerosa ciò non è ancora possibile si effettivamente diventa veramente impegnativo oneroso proprio per quel motivo che io ho detto io cioè non c'è questa proporzionalità questa perché l'imposto è più gravoso sui redditi bassi che sui redditi alti esatto che come dicevi ci tengo a sottolinearlo in realtà è un po' in contrasto con quello che c'è scritto nella Costituzione in realtà bisognerebbe avere il diritto al lavoro ma di poterlo anche è del giusto compenso è chiaro e nessuno ecco di questo nessuno 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 nel CIL perché io questa difficoltà anche quando faccio le dichiarazioni dei redditi effettivamente la vedo perché questa difficoltà tu la vedi soprattutto sul lavoratore dipendente è certo perché tu parti dallo stipendio se tu poi gli togli tutte le le attenute fiscali più la quota parte del contributo che resta alla fine dividi quel risultato per 12 e vedi con quante lire poi quindi realmente deve esatto deve campare con quanti euro si voglio dire ecco e questo sicuramente è quello e questo nessuno lo evidenzia questo qui nessuno lo evidenzia perché mancando come dicevamo come abbiamo anche già detto proprio la capacità di acquisto delle persone l'economia inevitabilmente va a rilento e per forza non può e beh d'altra parte non può andare anche se io allora anche qui sono sempre contrastanti parrebbe che a un certo punto sì c'è un aumento del PD non di un po' zero virgola poi dall'altra parte dice no però c'è una frenata a volte sì ci sono notizie un po' trionfali sono aumentati i posti di lavoro dipendenti però poi dall'altra parte c'è una frenata della produzione capisci molte volte sono anche in contrasto no sono anche in contrasto per esempio c'era una notizia che dice sono aumentati i posti di lavoro rispetto all'anno suo però forse è anche a tempo indeterminato però dall'altra parte c'è una frenata in alcuni periodi quindi vuol dire che probabilmente per carità ci saranno stati perché poi lì sono numeri che ovviamente dall'IMS per carità saranno anche esatti ma potrebbero essere anche dei lavori sì ancorché a tempo indeterminato però che ne so metti lavori un po' cioè gli stipendi non è che siamo non è che possiamo aspettarci grandi emolumenti ecco voglio dire anche soprattutto per chi inizia l'attività considera che adesso oggi un part time quindi pure un quattro ore perché poi bisogna vedere se sono part time anche a tempo indeterminato guadagni 6700-800 euro non di più in busta paglia mediamente un tempo determinato indeterminato un full time 1400-1300-1400-1600 cioè non è che siamo su dei grandi non parliamo di grandi cifre certo non parliamo di grandi cifre sì l'incremento è questo ma poi è tutto proporzionato effettivamente alla quantità e qualità del lavoro che costa ora poi svolgono presso le attività presso le aziende perché sai l'azienda può a seconda della sua disponibilità del suo fatturato della sua diciamo stabilità anche finanziaria può assumere certamente fa benissimo però dare una certa retribuzione in base a quella che è pur rispettando il contratto collettivo nazionale ma consideriamo che anche sui contratti collettivi nazionali ci sono si parte che ne so dal quinto sesto livello dai livelli più bassi a salire certo uno certamente inizia a lavorare ti mette al livello più basso dove il costo orario possiamo parlare anche di 5-6-7 euro l'orde all'ora si esatto infatti noi siamo fanalino di coda a questo punto di vista in Europa per il discorso degli stipendi delle retribuzioni che finalmente siamo veramente fuori dal mondo no 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 perché si parte da dei livelli io li conosco perché quando si va proprio sui contratti collettivi nazionali non è che arbitrariamente ovviamente loro si capisce si partono per carità anche a volte anche i laureati li mettono dal livello più basso perché quelle possono essere a volte sono quelle le disponibilità dell'azienda ecco sì esatto no perché adesso andiamo a livello di azienda privata nello stato è diverso non vogliamo colpivolizzare nessuno diciamo perché per carità però c'è effettivamente vabbè c'è chi magari lo fa da furbetto ma in realtà alle volte è proprio un problema no è un problema loro strutturale in termini non è che possono permettersi capisci però è anche vero piuttosto ma ci sono anche quelle assunzioni a tempo indeterminato part time che ripeto è la retribuzione 7,800 600 e quindi è evidente che insomma diventa un single diciamo però già uno che abbia se non lavorano almeno in due in una situazione così è certo diventa complicato diventa abbastanza pesante è certo è certo diciamo questi spiragli sono questi spiragli sì allora questa qualcosina si muove però è molto io dico molto sproporzionato rispetto a quello che è come abbiamo diciamo esposto oggi a quello che è la capacità ecco il potere d'acquisto e la capacità di spesa degli stipendi che sono comunque e questo è riconosciuto unanimemente i più bassi d'Europa esatto forse anche del mondo cioè d'Europa di sicuro esatto rispetto al rispetto alla media ecco degli stipendi europei ci sono gli altri hanno altre risorse per carità avranno però noi purtroppo dobbiamo comunque constatare amaramente questo ecco voglio dire esatto e sperando di poter dare delle notizie un po' migliori per la prossima settimana adesso sono tutti occupati mi raccomando fate la rottamazione si spera se se questo possa no ma possa ritengo se queste risorse effettivamente potessero poi in qualche modo andare a beneficio del sempre che aderiscano un po' tutti e paghi potessero ancora andare a beneficio per l'aiuto della diciamo della situazione un po' tutta della situazione sociale del del paese perché potrebbero essere delle risorse aggiuntive se poi servono per tappare i soliti buchi come io ritengo e allora lasciamo stare mannaggia con queste parole mi raccomando chi ha necessità di accedere se dovete la rottamazione lo faccia avrà tempo fino al 30 giugno esatto un po' di tempo per farlo quindi guardate magari la vostra situazione per capire si è abbastanza veloce anche su internet può essere rilevabile il totale subito vi manda l'agenzia entrate riscossione facendo la richiesta sul canale online vi manda subito la situazione debitoria già anche calcolata con la con la cifra che verrebbe da rottamazione quindi tranquillamente è un'opportunità esatto ci troveremo la settimana prossima entrando sperando di avere qualche argomento così capiremo esattamente che cosa è diciamo il partito e che cosa di quando può essere effettivamente la che per adesso sono notizie un po' sommarie ma di quanto potrebbe essere effettivamente il vantaggio che da quello che leggo mi parrebbe non proprio però vedremo dal punto di vista pratico che cosa significherà esatto va bene ti ringrazio grazie ai nostri ascoltatori buona domenica buona domenica